Buongiorno, buonasera. Oggi sono arrabbiato! Buongiorno, buonasera, buongiorgio. Oggi parliamo di SNL, Saturday Night Live. È un programma famosissimo in America, un sacco di attori, attrici famosi, un sacco di comici sono passati da Saturday Night Live, quindi hanno cominciato lì e poi sono diventati delle star. Ho visto un video che hanno messo su Instagram e dicevano questo. Have been flying off the shelves, ok? Have been flying off the shelves, vuol dire sono andati a ruba. Quindi quando qualcosa in un supermercato o in un negozio fly off the shelves, vuol dire che è andato a ruba. The new perfume flew off the shelves in less than two weeks. Quindi quel nuovo profumo ha venduto un sacco, è andato a ruba in meno di due settimane. Ciao! Ciao!